È stata rispinta la richiesta di dissequestro dei beni presentata da alcuni dei 22 imputati assolti nel processo sul crack di Banca Etruria. Gli imputati, tutti ex manager e componenti del CDA, erano stati assolti il primo ottobre scorso nel corso dell'udienza che metteva la parola fine al primo grado di giudizio per il filone bancarotta semplice e fraudolenta. Unico condannato Alberto Rigotti, gli altri assolti perché il fatto non sussiste. Forti di questo dispositivo alcuni ex manager avevano presentato richiesta di dissequestro dei loro beni ma il collegio del Tribunale di Arezzo, presieduto da Gianni Fruganti, lo stesso che ha emesso la sentenza di primo grado, ha rigettato l'istanza. Il sequestro era stato deciso dallo stesso collegio il 30 marzo 2019, alla vigilia dell'inizio del processo e aveva riguardato 16 degli allora 25 imputati, due nel frattempo sono deceduti, andando a colpire abitazioni, ville, terreni, seconde case al mare o in montagna, per un valore multimilionario mai quantificato interamente. La decisione dei giudici oggi fa riferimento all'articolo 317 del codice di procedura penale secondo il quale gli effetti di un sequestro conservativo cessano solo in presenza di una sentenza definitiva. Quella del primo di ottobre è invece suscettibile di un ricorso in appello o eventualmente anche in cassazione.